Buongiorno, oggi è il magnifico vlog della mia prima gita con la mia classe Sono tipo le 7 e un quarto di mattina Sto andando a prendere la metro E dopo che andremo a scuola, e poi Dopo che andremo a scuola, cioè vi farò vedere direttamente Al bioparco, magicamente Non so perché andiamo al bioparco, mi chiedo anch'io Siamo anche in classe Se non ti riprendi Sono le Le ho chi sei, e questa è la questione Casino, bordello Mangiate Allora, adesso siamo in classe E ora è la Linda Linda che puoi dire qualcosa? Guardate ma questo è proprio Linda, dai Ciao Guardate la maglietta di Federica Queste chiacchiere Quindi, ma a che ora dobbiamo andare? Alle 8 e mezza, è lì Ok, quindi a 10 minuti andiamo Figa questa foto, che cos'è? Quindi andiamo a vedere il sistema Adesso stiamo andando alla metro E quindi andiamo Ciao, salutate Guarda quella, quella si girano in casa lui Ciara, saluta Ciao Eccoci, siamo sul tram Guardate, non c'è niente, troppa luce Facciamo leggere Piramide da di Edo Ecco, grazie Piramide Ciao, saluta Ciao Eccoci qua Eccoci al mio parco, raga Così Bioparco Non so se notate ma Valeria non c'è Ciao, saluta Allora, siamo affine arrivati Cioè, siamo stati un'ora e un quarto su quel tram Con i ragazzini Senti là E qui adesso arriviamo Ma che sta a fare? Guarda, guarda come mi sfotte Comunque Adesso Arriviamo al bioparco Dove vuoi essere lasciata? In quale gara? Rescimi No, ci sta un tipo un settore dove ci stanno tipo Le balele La starra non ci sta Oh, quelle gore La portatemi con me Eccola Cindy La cindina Oh, la prof La sofficina Prof Prof Ecco, la mia prof d'estetica Cioè, no, tavere No, bello, io tutto Quindi arriviamo e vi riprendo qualcosina Qualc'animale Un bacio Ciao Ciao Cosa sto facendo, secondo te? Ecco un outfit da Eccolo già 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 Siamo qui, entriamo, dai Guardate che bello stile Molto già Quelli stanno facendo una foto con il selfie Con la secca Eccolo Eccolo Ma lì c'è un altro No, queste cose mi fomenti Venite un po' più avanti Non rimanete sulla passerella Grazie Eccolo Ci facciamo la secca del selfie con la giraffina Ma no con la giraffina Che bella Oggi facciano le giraffine Andiamo Lì c'è anche uno strano animale Carino No, davvero puzzano Però carino Sono carini Patatone Quello sembra quella Una piccola guerra Eccolo Eccolo La patatona più patatona Si stanno picchiando Guarda come ci guarda Si stanno picchiando Guarda come lo sta sottomettendo Si stanno picchiando Guarda come è salto Guarda che samurai Guarda quello Amore Che culetto Wow Fai tu col twerk Rega ho trovato i miei parenti È mia parente lei Eh scusa Guardate quelle campine Questi sono le ucciatici Quindi non sono quelli che vedete Nel documentari della zona africana Non si vede Lei? È Pontina Sofìa Più vicino Quella più lontana Si chiama Lachmi Sono separate Perché non vanno Ancora pochi al mondo Ma guarda se è buono Eccolo qui Eccolo Brutto Ciao amore Ma sono cattivi Sono cattivi Sì Sono animali molto territoriali Ma in tinta? No Sto solo a mangiare Questa è una lince Guardate che cagli Ma di cui stanno Questo è lopardo Guardate che bello Eh lo vedo prof Vedo dalla sua magliettina Guardatela Come una bimba Fai una bella foto E mandamela Dove sta Ilaria Ma ma puoi mandare poi? Sì La mando Ci piace lo zottesi? No Come lo schifo? Non è vero Ma io ho tutti i signoracci A lei non piace Perché puzzano Invece mi piacciono troppo Sembra tipo una ragazzina Questa è la nostra guida Il nostro prof Vedete com'è Come rock and roll Questo è un babbino Guarda che sedere che ha Ma perché mi si è messa a dispare? Guarda che capelli sessosi che ha Guarda che stai giocando con la paura Che stai giocando con la paura Uffa Guarda Chi gli ha fatto una paura Poi qui è Giorgia Ma salta qua Si sta più svetro guarda 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 che calore Piccola Guarda Che piccolo Guarda Perché è un nasino troppo bello Ecco la nostra Guarda 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 Ora ce ne stiamo andando Abbiamo visto anche le cimiette Oh Tra l'altro Da una settimana Vado a fare il tabaccio Lo so Io penso a queste cose anche Non lo so È una cosa che mi ha citato Qua adesso usciamo Come ti è sembrato? A te è piaciuto? Sì Soprattutto lei Mi piace Mi piace Mi piace Vi piace Mi piace Mi piace Cuore Mi piace Mi piace Mi piace Siamo tornate in classe Stanche sono le due quasi 40 e sono tornata a casa con questo cane mio io ho un animale perfettissimo quindi adesso vi faccio la mia merendina e nel mentre vi saluto perché il vlog per oggi è finito perché per adesso oggi vado accanto tra un pochino e poi stasera farò le classiche cose e tra l'altro domani è il mio compleanno ma non so se farò il vlog perché teoricamente non faccio nulla quindi non lo farò sicuramente grazie per aver visto questo vlog spero vi sia piaciuto se si lasciatemi un like vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video ciao